C'era una volta, un uccello solitario che si trovava perso nel mezzo del deserto ampio e desolato. Le sue ali erano stanche, e il suo corpo debole desiderava disperatamente trovare un po' d'acqua e cibo per recuperare le forze. Guardando verso il cielo stellato, si lamentava amaramente della sua situazione. Dio, perché mi hai abbandonato? Cosa ho fatto per meritare questa miseria? Un angelo percepì la sua angoscia. Quando si incontrò con Dio, l'angelo condivise il messaggio dell'uccello. Dio rispose. Diggi che per ventuno giorni e notti, smetta di lamentarsi, e di piangersi addosso. Deve solo dire questa preghiera. Grazie, Dio, per tutto. Un mese dopo, il nostro amico uccello non si lamiava più, ma cantava e volteggiava allegro attorno all'albero che gli dava riparo. Dio sorrise e rispose. Vedi, io non ho mai abbandonato nessuna delle mie creature. Poi disse all'angelo di tornare nel luogo dove si trovava l'uccello, e di dirgli che lo ama, e che è sempre con lui.